L'incentivo De Contribuzione Sud è un'agevolazione fiscale per le aziende del Sud Italia che punta a contenere gli effetti del Covid-19 sull'occupazione e a garantire la tutela dei posti di lavoro in aree con gravi situazioni di disagio. È rivolto ai datori di lavoro privati con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Lo sgravio contributivo riguarda i rapporti di lavoro dipendente sia instaurati che da instaurare nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2029 fatta eccezione per le imprese dei settori finanziario e agricolo e per i datori di lavoro domestico. L'esonero va dal 30 al 10% della contribuzione previdenziale a seconda dell'anno e comincia a decrescere a partire dal 2025. Non è previsto un massimale nell'importo per singolo lavoratore. Vi si accede mediante le denunce retributive e contributive mensili relative ai dipendenti seguendo le istruzioni fornite da INPS. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.ampal.gov.it slash incentivi